Buongiorno a tutti, oggi voglio presentarvi, appartenente alle collezioni Fine Art by Di Mano in Mano, questo dipinto. Si tratta di un olio su tavola di Carlo Portelli, un artista toscano attivo nel XVI secolo. Infatti quest'opera è databile al 1540-1550 circa, ossia in una fase già avanzata, già matura, della carriera dell'artista. Si tratta di un'opera, come vedete, che è espressione del manierismo, un'epoca che mi piace particolarmente. Lo si evince dalle anatomie allungate, che richiamano quelle di altri celebri artisti, a lui coevi e che sono attivi sempre nell'area toscana, in primis il Pontormo, così come dalla tavolozza, infatti vedete, tipica degli artisti manieristi e dello stesso Portelli, è questa tavolozza molto acida, quasi metallica, con colori che a tratti sembrano quasi cangianti e che si ritrovano nel corpus pittorico dell'artista stesso. In questo caso abbiamo la raffigurazione di una Madonna col bambino, accompagnati dal San Giovannino. Come vedete, il bambino tiene in mano la croce, che è parzialmente tagliata e che ovviamente è simbolo che anticipa quella che sarà la sua passione, e tutto il gruppo, il trio, è collocato all'interno di un paesaggio naturale tipicamente fiorentino, utilizzato comunque dagli artisti toscani. Con questo paesaggio collinare e fluviale retrostante, qui si intravede infatti il fiume, e quest'imponente massa rocciosa che funge da diaframma, quindi da sfondo dei personaggi e quello che è poi il paesaggio retrostante. L'opera è indicabile come di mano di Carlo Portelli, perché ci sono delle caratteristiche stilistiche che ritornano e per le quali è possibile fare dei confronti con quello che è il resto del catalogo dell'artista. In primis infatti per quelle che sono le fisionomie dei volti, tipiche dell'artista, con gli occhi particolarmente allungati, così come questa modalità di trattare i panneggi in modo molto plastico. Inoltre tipico di quest'artista è anche la modalità di trattare quello che è il nimbo del bambino. Non so se dal video si riesce a vedere bene, con questi riccioli uncinati che per l'appunto si possono ritrovare in altre opere che sono ascrivibili alla sua mano. Come accennavamo, Carlo Portelli è stato un artista toscano, ricordato anche da Giorgio Vasari nelle sue vite, per committenze anche importanti. Infatti prima negli anni 30 e poi negli anni 60 è ricordato il suo lavoro su commissione dei medici per lo sposalizio di Cosimo e di Francesco.